ragazzi benvenuti in questo video prima di cominciare un piccolo avviso purtroppo mi si è imparlati i computer e quindi non so per quanto tempo però i prossimi video usciranno senza editing quindi tutto qua adesso iniziamo siamo qui a cercare oggi nel solito parchetto dietro casa ma adesso ho già trovato qualche pezzo ho trovato pure un manufatto ma se riesco ve lo mostro dopo in questo stesso video abbiamo questo che è un cristallo però è incompleto non riesco a mettere bene a fuoco e abbiamo qua un altro pezzo che è per lo più massivo è un pezzo per lo più massivo però molto brillante sempre di augite vedete non è buono quindi non lo prenderò su abbiamo quest'altro pezzo che non sembra essere un cristallo per lo meno non completo però è carino lo prendo su abbiamo quest'altro campione questo è un bel cristallo completo si intravede diciamo l'abito cristallino e la forma vedete anche se hai dato in parotondate però è discreto lo prendiamo su qua abbiamo diversi elementi come si può vedere per esempio qua da questo campione questo è un campione in matrice però in cristallo non completo abbiamo vari tipi di elementi qua che ci sono e vediamo adesso cosa riusciamo a far saltare fuori cominciando da questa zona dove abbiamo altri campioni tipo questo che è molto bello anche se è massivo si intravedono sul cristallo di augite cristallizzazione di minca o muscolite insomma carino ma non è quello che cerchiamo ragazzi mi sono imbattuto in questo campione un po strano vedete si vedono delle linee su questo è una roccia vulcanica sempre che ha questo movimento qua particolare che sembra indicare appunto delle linee sembrano come se fosse si vedesse come fosse la lava quando era ancora fusa è curioso al notare una cosa del genere in un campione simile lo prendo su abbiamo qua un'altra cosa ovvero questo ovvero un altro campione di muscovite questo è molto bello molto carino e vale la pena effettivamente di raccoglierlo abbiamo qua un altro campione come vedete un bel cristallino ancora in matrice campione molto molto bello molto bello molto bello è un campione che vale la pena di prendere su qua abbiamo un altro campione questo qua che è effettivamente un altro cristallo però non è completo io voglio cercare di prendere i campioni più completi questo è un cristallo sì ma non proprio completo vedete come si capisce adesso molto bello ancora campioni di rocce che hanno varie cristallizzazioni sono tutte rocce vulcaniche rapilli basalte e quant'altro abbiamo quest'altro tipo di campione un po strano vediamolo un po perché è strano dico che è strano per il semplice motivo che vedete è sembra un sciottolo sette volte in mezzo alle ogite mi capita di imbattere in campioni di questo tipo che potrebbero anche essere di augite ma non mi spiego esattamente questa forma mi piace raccogliere campioni di questo tipo in questo caso lo raccoglierò magari lo analizzerò un po meglio campione molto 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 carino abbiamo tra l'altro qua vicino vari altri tipi di ogite ma pezzi non belli incompleti che quindi non prendo qua abbiamo un altro campione altro cristallo magari non perfettamente completo ma carino qua abbiamo un grosso campione di ogite massivo un po come quello che ho trovato prima purtroppo non lo vedrete nei video perché per dei problemi ho perso quella parte del video questi sono rocce con cristallizzazione all'interno abbiamo anche questo piccolino vedete sono diverse qua di rocce che possono effettivamente presentare dei campioni di ogite ben cristallizzate ricordiamoci che la ogite di cristalli in matrice è più rara da trovare quindi come quel campione che abbiamo trovato prima volevo farvi notare questo campione con questa cristallizzazione qua che sembra quasi di ora ma in realtà è mica qua la mica può assumere varie colorazioni in questo campione si vede una bella cristallizzazione color oro effettivamente niente niente male quindi se non può esserci pezzi di più grandi dimensioni che insomma possono avere qualche sorpresina che insomma è quello che io voglio e spero di trovare abbiamo anche questo grosso campione sempre di augite ma massiva sarebbe interessante se si trattasse di campioni ben cristallizzati di un cristallo insomma ben formato purtroppo sono solo campioni massivi e quindi insomma direi che si può fare di meglio si può trovare di meglio abbiamo questo cristallo di dimensioni già molto più grandi più ben formato questo è un campione molto carino adesso lo prendo su molto molto bello queste qui sono delle cristallizzazioni queste bianche di qualche altro minerale probabilmente calcite o cose simili è un campione discreto ma che non vale la pena prendere campioni con queste bollosità e piccoli cristalli inclusi ci troviamo in una zona più aperta adesso lungo questa stradina qua e un po' in quella che sta qua è possibile alle volte rivenire qualche cosa anche se adesso non state vedendo bene per condizioni di ombra ora si lungo questa stradina e lungo questa stradina è possibile rivenire qualche cristallo di augite diciamo ben formato vediamo un po' cosa esce fuori qua abbiamo già il primo cristallo di qualità già più decente anche se ancora incompleto ma molto ben formato molto carino lo prendo su questo qua eppure un cristallo un mezzo cristallo ma penso che questo non è dei migliori quindi lo lascio qua abbiamo un altro bel pezzo abbiamo qui un altro campione campione con muscovite ma non buono purtroppo difficile trovare dei bei pezzi di questo a guardate questo che bel pezzo vedete bene la faccia del cristallo ed eccolo qua scusate se trimo un po' ma è difficile mantenere aperto cioè mantenere semplicemente qua guardate che bello è coperto anche da una patina una patina forse di qualcos'altro questo qua è un altro campioncino molto molto carino ecco qua un altro campione anche se è molto incompleto questo probabilmente non lo prendo perché è troppo incompleto però ve lo faccio vedere comunque qua qua abbiamo un altro un altro addirittura questo potrebbe essere un geminato o o magari due cristalli compenetrati non lo so questo è un campione con muscovite molto discreto penso che lo prenderò prenderò abbiamo questo campione qua e qua vicino abbiamo quest'altro piccolo cristallo fa un caldo che non potete capire qua dunque ragazzi il video si conclude qui spero che vi sia piaciuto vogliate apprezzare questa cosa questo sforzo che ho voluto fare nonostante appunto l'impossibilità di editare il computer per via del editare col computer perché il computer appunto si è sballato lasciate il like sotto a questo video commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e l'ultima cosa che vi volevo dire è che tra due settimane e precisamente domenica 8 settembre io parteciperò come l'anno scorso al BUS International Mineral Fossil insomma quella cosa che è un evento dove si scambiano in minerale e quant'altro e quindi cercherò di fare un video in qualcosa del genere alla prossima